A.I. 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 Buon grise di Dorenti Ciao! 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 Grazie a te! Grazie a te! Grazie, amato! 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 Amato, un discorso, dai! Amato! Silenzio! Fai il tuo discorso, dai! Silenzio! 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 Io sono il tuo padre! Io sono il tuo padre! Grazie a tutti! Un bacio normale, grazie! Grazie a te! Allora, innanzitutto, grazie a tutti! Grazie per essere venuti a tutti! Vi annuncio per i meno alconizzati che per una misteriosa circostanza abbiamo perso lo spumante, quindi stasera non lo bevremo, ma tanto abbiamo bevuto un sacco di vino. Abbiamo bevuto un sacco di vino, in birra, diciamo che l'allegria c'era, ma è la forma più bella che si stelano in quella degradante, diciamo. Ti chiedevo la marijuana, non me ne volete, Maria. I grozzotti che sono ultimi e ultimi sono... Quella non era la bottiglia di spumante, era una cosa che non l'hanno portato. Era la bottiglia al gusto di fragolina. Ma era l'altra! Era l'altra bottiglia! Secondo me è stato stupido. Vi ho fatti entrare, vabbè, sia perché mi piaceva lasciarli fuori, anche se la maggior parte di quelli d'anno li avevo invitati, Sì, perché comunque ho visto che hanno portato un omaggio e una bottiglia di fragolina... E ti sono portato una presa! Non abbiamo le parole, cazzo! Scusa, scusa! Mi dicevi un crattino, mi dicevi un crattino? Sai, sai. No, da qua riuscire a fare dei crattini, e direi che cosa è successo? Venga, stupido! Maria, che cosa mi fai sentire? Che buono dei sui giovani! Ma è un maggio! Che buono dei sui giovani! Ma è un maggio! Che buono dei suoi giovani! Ci riscossero di top! Sìììì! Allora, grazie a tutti per essere venuti! Aspetta, aspetta, aspetta! Facci il discorso, prego! In italiano! Grazie a te! Amato Indiale! Amato Indiale! Amato Indiale! Allora! Bravo! Prego! Bravo, complimenti! Bravo! 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 Allora, sabato scorso! Bravo! Davide! Bravo! Daiso! Non toccate le luci! Davide! Non vogliamo parlare! Stavo, devono parlare poverina! Algri a core! Ragazzi, ragazzi! Suspohate! Abitiamo a parlato ho! Tuca! Abitiamo a parlato! Amato, scusate, sta stare come lui. Ragazzi non evitate che qua sono troppo adormono, sanno dopo ci fanno il mazzo a dove andò? No, a te, tu sei buon prima. No, grigliate, venite a Polibone. Sabato scorso, questa video ha compiuto vent'anni, e sono ufficialmente entrato nel fiore della gioventù. Amato, 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 amato. Ragazzi, ragazzi non ho più di dire, vi prego, non evitate, sanno questi qui ci fanno tanto il mazzo. Ehi, ciuffo, tu ci lo prego, ciuffo. A bottiglie di spuonzi, se siete dentro i miei, stai. Anche di questo, certo, di questo. Allora, bravo! Ragazzi, 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 ragazzi. Anche se, diciamo, nell'immaginario comune, questa festa, più il ventesimo, potrebbe sembrare esagerata, io mi sono divertito tantissimo, e da quello che un po' ho visto anche tu, quindi io sono veramente contentissimo, ma forse, forse è venuta anche meglio di quella del 18. Davide! Non lo so, vabbè. Comunque io sono veramente felice, poche volte della mia vita, necessariamente vent'anni e sette giorni, sono stato così felice come stasera. Bravo! Bravo! Ci sono stati due, tra le persone importanti per me, che hanno detto due frasi, che non sono tanto dei complimenti, sono molto di più. Sembrano stupiti, ma non lo sono. una, Meliwana ha detto che è la prima volta che ha ballato i balli di gruppo, quindi complimenti anche al DJ Grazie Grazie Amato Sonsa Quanto è cretino? Scusate Mi devi parlare? Mi piacere Per me lo posso scrivere luce E' vero Non è che così parla E' vero 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 Amato Scusami Amato Io faccio i complimenti che c'è dei bellissimi occhi a lei E' la bellissima ragazza Come vedi? No Ragazzi Ragazzi siete bellissime stasera Ragazzi Grazie Ragazzi 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 Un'altra persona importante invece ha detto quando gli ho detto che la festa stava comunque per concludersi perché comunque è un'altra persona, ha detto no non voglio che finisca questa festa, un applauso ad Andrea Santamagino. Amato, Amato, Amato. Amato, 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 Amato. Amato, 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 Am Prego! Ciao! Tanti auguri a te, tanti auguri amato, tanti auguri a te! Buongiorno! 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 Ci sono i regali! Sai che è un'idiosa? Vuoi il microfono? Che? Ti ho regalo! Questo è di un mio carissimo amico del seminario, un mio amico di vecchia data che non vedevo da tempo, insieme alla sua ragazza, ecco adesso lo ha. Dove coglione! Luigi Pert è una ragazza lunga! Vito! Vito! Allora! Menni, bimbi, bimbi! E' una condizione del piatto, davvero che sono strana! Buongiorno! La bimbi! E' un belcippante! E' un belcippante! Che bello! Che cos'è? Francia lenta Se riesco a capire come è niente Che bello questa Che bello questa Che bello che stai preso al microfono Non riesco a vedere come si mette E adesso l'altro regalo Primi biglietti Da sola Ti auguriamo di continuare Ad essere sempre Ricordo della tua costruita In fondo non è così sbagliato La parola vita è così bella Che merita un bel accento Ti auguriamo di continuare ad essere sempre Per il corso della tua vita Un po' come il gattino nero di questo biglietto Simpatico e anticonvenzionale Auguri Chissà che cos'è Che bello Che bello Adesso il nome del telefono Adesso il nome del telefono me lo dite voi Grazie L'importante è che ti metti Whatsapp E lo scassi che la minchia Adesso sapete cosa Whatsapp Che mi metto Whatsapp Ciao 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 Grazie.